Realizziamo insieme questa neon manicure. Creiamo la struttura con la fiber base nella colorazione 003 e dopodiché stendiamo una passata di H073. Con il paint gel white e il liner numero 15 andiamo a realizzare delle ciliegine stilizzate e a proposito di ciliegine andiamo a selezionare due tonalità della nuova capsule Red Blooming caratterizzata da tonalità di rosso non aranciate. Dopodiché posizioniamoli sulla tavolozza e andiamo a miscelarli con una goccia di Top No Wipe. Coloriamo le ciliegine e definiamo l'effetto neon con una linea sottile di paint bianco. Concludiamo sigillando la nail art con un top lucido ed ecco fatto, con questa capsule sarete sicure di avere la giusta tonalità di rosso ciliegia.